Siracusa È il 1929 e la famiglia Drago getta le basi, anzi le reti, per quella che diventerà un'importante azienda ittica siciliana che si specializza nella conservazione di prodotti ittici al naturale e all'olio di oliva Oggi il nome Drago vanta quasi un secolo di storia e si afferma come punto di riferimento nella lavorazione dei prodotti ittici sul territorio nazionale L'azienda si occupa principalmente della lavorazione di tonno, sgombro, salmone e pesce spada che vengono rigorosamente pescati osservando le norme di pesca internazionale L'azienda, infatti, aderisce al programma Dolphin Safe con utilizzo esclusivo di pesce proveniente da pescherecci che dimostrano di adottare tecniche di pesca legali e che evitano l'estinzione dei delfini Solo dopo rigidi controlli si procede con la preparazione I pesci vengono messi a dissanguare in acqua corrente e posizionati in ceste in acciaio inox AISI 316 Il pesce viene così fatto cuocere in contenitori colmi di acqua salata e non a vapore per mantenerne intatte le qualità organolettiche Dopo il prodotto viene raffreddato e manualmente si procede ad una minuziosa spellatura e alla eliminazione della lisca centrale e delle spine pettorali Tutto il pesce è infatti pulito a mano e non con sostanze chimiche Una volta puliti, i tranci vengono tagliati a filetti e posizionati all'interno di vasi di vetro o di barattoli di diverso formato A questa fase segue la colmatura dei contenitori con olio o con acqua se il prodotto è al naturale La chiusura del coperchio con macchina tappatrice automatica La sterilizzazione e il lavaggio dei contenitori con una macchina lavatrice asciugatrice L'ultima fase è rappresentata dall'etichettatura dei vasi con apposita macchina automatica e dal confezionamento dei contenitori in termopacchi conservati nei magazzini dell'azienda Drago ha conseguito negli anni certificazioni che testimoniano il livello di alta qualità dei suoi prodotti come la certificazione di prodotto DNV che ne attesta la conformità alle norme di settore garantendo la qualità, l'eccellenza e la peculiarità che contraddistinguono i suoi prodotti e il marchio Made in Sicily inoltre la certificazione 100% garanzia qualità originale italiana La gamma di bontà è varia e comprende anche una linea certificata biologica di prodotti conservati con olio proveniente da colture biologiche L'esperienza asiendale e la genuinità delle sue specialità sono ampiamente riconosciute nel mercato Numerose sono state le partecipazioni a convegne ed eventi fieristici importanti il Cibus a Parma, lo Slow Fish a Genova, il Salone del Gusto a Torino e ancora a livello internazionale a Mosca, Tokyo, Parigi, Chicago, San Francisco e Shanghai Pesci di prima scelta Rispetto della tradizione siciliana è una passione che dura da quattro generazioni Questi gli ingredienti di un nome orgoglio del Made in Sicily che ogni giorno assicura tipicità e gusto sulle tavole dei buongustai Grazie a tutti